Il 29 maggio non è mai una data come le altre per i tifosi della Juventus. Sappiamo tutti che oggi è l'anniversario, la ricorrenza di quella finale di Champions vinta contro il Liverpool che però passa in secondo piano per forza di cose perché mette davanti a tutto la tragedia dell'Eisel dove persano la vita 39 persone. 39 è un numero speciale, è un numero quasi sacro per la Juve per onorare e ricordare la memoria di quelle persone e oggi che è il 29 maggio ha maggior ragione, è una giornata da onorare e da ricordare perché sono anche 39 anni da quel brutto evento del 1985 quindi il primo pensiero del video di oggi non può fare altro che andare all'Eisel e di quello che è successo in quella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Una finale di Coppa Europea che verrà giocata anche questa sera da una squadra italiana ad Atene, Fiorentina contro Olimpiakos e ci sarà anche una finale di Champions League sabato tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Queste sono bene o male le due partite di cartello che servono per terminare questa lunga stagione 2023-2024 prima di dare il via a quelli che saranno gli europei di calcio che si svolgeranno da metà giugno in avanti. Questa stagione è lunga, lunghissima. La prossima sarà uguale perché poi quando ci sono degli eventi estivi ai campionati, dentro le annate i calciatori praticamente non vanno mai in ferie o si riposano soltanto un mese durante l'anno. poco più qualcosa del genere perché poi ci sono questi giorni un po' di calma piatta al momento, si giocano le competizioni e poi un po' di tranquillità lato giocatori per ricominciare con una preparazione che dovrà vedere impegnate tante partite. i muscoli devono reggere l'urto, l'impatto di tante lotte, di tante battaglie. Però la stagione per le squadre italiane non finirà questa sera con Vincenzo Italiano che potrà conquistare la sua prima Coppa d'allenatore della Fiorentina e la sua prima Coppa europea in generale d'allenatore perché ci sarà anche un'altra sfida domenica ancora una volta con la Fiorentina protagonista che sfiderà l'Atalanta. quel recupero di una partita tra Fiorentina e Atalanta che sembrava legata per forza di cosa alle qualificazioni europee di altre squadre come la Roma di De Rossi, Roma che alla fine non va in Champions League, non arriva in Champions League, è questo Atalanta-Fiorentina che diventa quasi una partita di quelle che devono soltanto farci arrivare alla fine del campionato. Ecco, il campionato già finito, in realtà lato mio mi importa perché nel fantacalcio con gli amici abbiamo ancora una giornata da recuperare, abbiamo quella partita lì in sospeso e poi concluderemo ufficialmente anche questa Serie A. Perché è importante questa informazione? Perché la partita, anzi la stagione finisce proprio lì e lì inizieranno secondo me poi a muoversi alcune cose come ad esempio il domino panchine perché Gasperini sappiamo che molto probabilmente rimarrà l'Atalanta, ha chiesto anche delle garanzie, ha fatto delle richieste all'Atalanta dal punto di vista dei giocatori che rimarranno, dei giocatori che compreranno. È legittimo quando un allenatore deve optare per rimanere nella piazza oppure cambiare completamente, andare in una nuova squadra, c'è una trattativa con la società, non può essere altrimenti. Invece l'italiano molto probabilmente saluterà e andrà ad essere annunciato in una nuova squadra. Vedremo poi quale sarà. Potrebbe essere interessante perché l'italiano è cercato anche dal Bologna e allora magari quando l'italiano verrà annunciato dal Bologna, Tiago Motta verrà annunciato dalla Juve o magari prima Tiago Motta e poi l'italiano ma sono ovviamente incastri importanti, interessanti. Ora Tiago Motta si starà godendo queste ferie, questo meritato riposo in attesa di ricominciare una nuova stagione, molto probabilmente a Torino, sponda bianconera. Ragazzi, al 30 giugno scadono i contratti, come quello di Alexandro che abbiamo salutato l'altro giorno, ma anche quello di Tiago Motta. Quindi manca un mese ancora, dato che è il 29 di maggio, circa un mese, un mese, un giorno. Però tra due settimane iniziano pure gli europei, l'abbiamo detto prima. E allora vi faccio una domanda. Secondo voi lato calcio-mercato, non tanto lato allenatori, che secondo me quello è un discorso relativo al termine di tutte le partite ufficiali, finiscono le coppe europee, finiscono i recuperi, finisce tutto e poi sulle panchine ci si può già iniziare a muovere, secondo me ci saranno già gli annunci e robe del genere perché ovviamente sono trattative che vengono programmate, vengano preparate con mesi di anticipo. Ma lato calcio-mercato, vi faccio un esempio, quello di Calafiori. Giocatore che la Juventus sembra aver individuato come perno futuro della retroguardia bianconera. Non tanto per Di Gregorio, che secondo me a breve potremo avere l'annuncio, anche perché Di Gregorio non dovrebbe essere presente, poi magari cambierà qualcosa lato portieri, potrebbero esserci delle indisponibilità, ma non sarà presente all'europeo. Ma Calafiori è stato preconvocato. Rimarrà nella rosa definitiva di Luciano Spalletti oppure verrà tagliato. E se rimarrà, vi aspettate una trattativa che va in porto e va chiusa prima dell'inizio degli europei? Mi sembra un po' strano, anche perché squadre come il Bologna vorranno cercare di utilizzare l'europeo come vetrina. Tanto bene o male col calcio di oggi abbiamo capito che la stagione buona Calafiori l'ha già fatta. Se poi gli europei non gioca, perché magari non entra nelle gerarchie, non era ancora stato convocato, era sempre stato lasciato all'under, poco cambia del suo valore. Lo stesso Bastoni per dire non aveva giocato titolare l'europeo vinto dall'Italia, non mi pare che il valore di Bastoni sia calato, anzi, uno di quei giocatori che se li intervende riesce a monetizzare alla grandissima. Se invece gioca, aumenta ancora di più il suo valore, perché? Perché diventa un titolare non solo del Bologna che arriva in Champions League, ma pure della nazionale italiana che gioca all'europeo. Quindi Bologna avrebbe tutto l'interesse del mondo ad attendere il termine dell'europeo o comunque almeno l'eliminazione dell'Italia, poi magari l'Italia si confermerà ancora una volta campione, ne dubito fortemente, però tutto può accadere. E quindi penso che il Bologna avrà tutto l'interesse del mondo ad attendere, ma mica solo il Bologna, tante altre squadre in cui ci sono questi giocatori convocati, la stessa Juve ha dei giocatori come Chiesa che magari potrebbero essere interessanti lato eccessione se non si troverà l'intesa per rinnovare questo contratto. Oggi è uscito sul canale di Colpo Gobbo un video anche molto divertente in cui abbiamo fatto un po' i castoni anche insieme a Chino e io dicevo ragazzi però io ho questa sensazione secondo me uno tra Chiesa e Bremer comunque uscirà. Difficilmente li vedo entrambi alla Juve, poi lo sapete vi l'ho già parlato anche in un video in cui andiamo ad analizzare il mercato che secondo me farà la Juventus. Io i giocatori forti li terrei perché in questo momento secondo me deve aggiungere, non togliere. Deve aumentare il livello, non diminuirlo. Io capisco il discorso economico, ma una squadra che vuole tornare a vincere e vuole concretamente ambire lo scudetto se poi cede un pezzo grosso per poi inserirlo allora forse non è proprio un segnale di crescita. Poi magari sì, basti vedere l'Inter che la scorsa estate ha accenuto i titolari e sono arrivati altri giocatori e hanno fatto benissimo o il Napoli l'anno prima con Vara eccetera eccetera quindi possono accadere queste cose qui. E sempre per tornare sul trend topic Calafiori perché bene o male oggi è il nome che la Juventus è giunto e hanno cerchiato il rosso, quello su cui probabilmente inizieranno un po' a lavorare nell'ombra con Sartori e con il Bologna su tutto sport ho letto un pezzo in cui spiegavano che la Juventus avrebbe la volontà di inserire anche delle contropartite tecniche all'interno dell'operazione per cercare di ridurre il prezzo e si facevano quattro nomi sono quattro nomi che per un motivo o per un altro sono interessanti quello di Miretti io so che tanti hanno già bocciato definitivamente Miretti io sono sempre dell'idea che mi piacerebbe vederlo un anno in prestito in una squadra che lo mette al centro del progetto e poi rivalutarlo alla Juve perché secondo me Miretti non è il giocatore scarso che tanti ormai hanno già individuato per me Miretti ha delle potenzialità e può diventare un buon giocatore magari non un titolare inamovibile non un giocatore di quelli che dici indimenticabile ma un buon giocatore sì io in Miretti qualcosina di potenziale vedo poi magari mi sbaglio quindi mi dispiacerebbe perderlo a titolo definitivo così come mi dispiacerebbe cedere Nicolussi perché secondo me quest'anno ha fatto una buona stagione quelle poche volte che l'abbiamo visto quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo poi se la Juve ha altri piani e magari lo vuole inserire all'interno di questa trattativa dobbiamo anche ricordarci che Miretti ci vanno prima o viene ceduto o va in prestito Rabiot va rinnovato o se no va via McKennie è in scadenza che cosa facciamo? cioè Pogba non lo consideriamo la Juventus dal punto di vista dei centrocampisti secondo me deve stare anche un po' attenta a iniziare a cedere questo, questo, quell'altro perché lì bisogna intervenire lì bisogna aumentare la qualità secondo me vanno fatti almeno un paio di acquisti se fai un paio di acquisti devi cedere due giocatori se ne cedi tre o quattro gli acquisti non sono più un paio devi farne tre o quattro perché comunque devi rimanere con quel numero di centrocampisti in rosa quindi ci ragionerei un attimo Facundo Gonzales un altro di quei nomi che quest'anno ha giocato in Serie B con la Sam Di Pirlo io non ho seguito sono sincero può essere un nome intrigante da inserire all'interno della trattativa e si parla anche di Barbieri che era in prestito al Pise che l'anno scorso abbiamo visto per qualche apparizione in Serie A momenti di turnover prima delle coppe europee mi viene in mente la sconfitta 1-0 col Sassuolo dove Barbieri addirittura era partito titolare quindi questi sono i quattro nomi che il Bologna avrebbe individuato secondo Tutto Sport nella lista dei giocatori che la Juventus valuta comunque come eccedibili per cercare di ammortizzare il cartellino di Calafiori che non mi sembra nemmeno un cartellino gigante perché se parla di 25-30 milioni di euro il punto qual è? che la Juve di oggi una cifra del genere fa fatica ad andare ad investire come faceva una volta anche solo fino a due anni fa dove prendi Locatelli e Ken a 40 milioni l'uno o Vlaovic a gennaio a 80 sono nomi complicati senza considerare che il cartellino di Alcaraz non è tuo e non penso che lo riscatterai anche qui è una cifra molto alta e anche qui un centrocampista che esce e quindi anche lì dovrà intervenire insomma la Juve inizia a muoversi sul mercato inizia a sondare le disponibilità degli altri club e inizia anche a fare un paio di conti perché davvero io immagino che almeno almeno 8 giocatori in uscita ci saranno quest'estate e se ne cedi 8 almeno 8 devi mettere dentro e non solo perché quest'anno avevi la rosa corta perché beh non avevi le competizioni europee invece l'anno prossimo avevi tante competizioni quindi devi anche allungarla quindi se fai 8 cessioni secondo me devi fare 10-12 acquisti una roba di questo tipo considerando anche i giocatori che ti rientrano dai prestiti che valgono come acquisti considerando magari qualche giocatore che aggrega la prima squadra ma io devo allungarla questa rosa e non solo deve anche aumentarne la qualità quindi secondo me quest'estate ci divertiremo abbiamo questi giorni un po' di calma piatta proprio perché le competizioni non sono ancora terminate e poi ci sarà l'europeo ma secondo me ci saranno dei fuochi d'artificio allucinanti durante quest'estate bianconera ciao a tutti ciao a tutti